Migliaia di stelle di Natale che rischiano di appassire a causa delle mancate vendite causate dall'emergenza Covid sono state donate dai florovivaisti toscani agli operatori sanitari, medici e infermieri che negli ospedali della Toscana lottano contro il Covid. È l'iniziativa Stelle in Corsia di Coldiretti Toscana a cui ha aderito anche la giunta regionale. Nelle immagini vedete la vicepresidente e assessore all'agricoltura della regione toscana Stefania Saccardi presente alla consegna delle stelle a Careggi e al mayor di Firenze. Due degli ospedali toscani coinvolti nell'iniziativa, importante per due ragioni. Da un lato per dare un riconoscimento a un sistema sanitario che anche in questo momento è fortemente sotto pressione ma sta dando veramente il meglio di sé. Il secondo per promuovere però i nostri agricoltori, i nostri coltivatori di stelle di Natale che in questo momento come gran parte delle attività produttive soffrono questo periodo di lockdown e quindi l'occasione buona anche per dire a tutti e rinnovare un appello a comprare le stelle di Natale dei nostri produttori toscani, a chiamarli, a comprarle, a metterle nelle nostre case. In occasione della donazione delle stelle di Natale agli ospedali della Toscana Coldiretti ha rilanciato l'allarme per il settore florovivaistico trainato da 3.500 imprese sul territorio regionale per una produzione da 940 milioni di euro l'anno e che nel 2020 a causa delle limitazioni anti-covid, le difficoltà nelle esportazioni e l'annullamento delle cerimonie ha visto un miliardo di fiori e piante andar distrutte con un crollo del fatturato del 59%. Oggi parliamo di stelle di Natale ma potremmo parlare di alberi di Natale. Noi produciamo 8 milioni fra alberi di Natale e stelle di Natale in Toscana che devono essere considerate un'eccellenza della Toscana al pari del Brunello, al pari dell'olio toscano, al pari appunto delle grandi eccellenze della Toscana. E dobbiamo quindi in questo caso sottolineare la necessità di fare squadra, di fare rete per rilanciare la nostra economia. A ringraziare intanto sono medici e infermieri che grazie al gesto di generosità dimostrato dai florovivaisti con stelle in corsia si sentono meno soli nella guerra contro il covid. Queste iniziative, al di là della cosa in sé che è gradevole e sono delle bellissime stelle, ci fa sentire anche un po' di più la vicinanza che per noi è assolutamente importante perché ci dà anche la speranza di uscire perché ovviamente più dura la situazione e più anche noi subiamo le conseguenze e cominciamo ad essere molto stanchi.